Gli apparecchi collegati alle prese ma in stand-by sono i principali responsabili di perdite di energia all'interno dell'abitazione, oltre che potenziali cause di incendi domestici. Collegando più dispositivi elettronici ad una multipresa potrete evitare di prolungare oltre il necessario lo stato di stand-by o la carica di un cellulare. La prolunga permette di avere il pulsante di spegnimento più vicino in caso la ciabatta fosse in una posizione scomoda da raggiungere. Consigli, ricordate di spegnere sempre le luci quando uscite da una stanza. L'accensione e lo spegnimento frequente delle lampade non riduce la vita delle lampadine.